E non mancano di certo, e non sono mai mancate in realtà, le polemiche a questo nostro grande fratello VIP, con, in primis davanti a tutti, Antonino Spinalbese, super protagonista di una sfuriata al termine della puntata in diretta con Alfonso Signorini. Allora, cosa è successo? Ancora una volta si è registrato un attacco contro gli autori del programma, cosa che aveva fatto nelle scorse ore anche Attilio Romita. C'è, in generale, grande insoddisfazione, veramente con la I maiuscola, nella casa, perché praticamente l'ex fidanzato di Belen è stato chiarissimo nella sua esposizione dei fatti, e lui è tornato a parlare di un tema delicato trattato durante l'appuntamento tv. Nella casa Antonino non ha proprio accettato ciò che è successo e lo ha detto senza girarci troppo intorno. Però, torniamo un attimo ad Attilio, per capire meglio come sta andando la situazione. Ecco cosa ha esclamato davanti agli altri inquilini. Eh, ho capito, ma questi li mettono tutti con l'immunità. Tutti. Lo fanno ogni volta. Appena vedono che uno sta a rischio, ti danno l'immunità, così ti salvi. E noi, invece, che dobbiamo fare qua? Ci scanniamo come cretini? E quest'ultima conversazione l'ha avuta in giardino con Antonella Fiordelisi, solo che adesso è toccato ad Antonino sbottare in maniera proprio completa. A svelare tutto su quanto accaduto, con Antonino Spinalbese fuori di sé, è stato il sito Isa e Chia, che in pratica ha riportato i virgolettati del giovane. Tutto è nato dopo le dichiarazioni di signorini sull'assenza del video inerente e la presunta spallata data da Edoardo Donnamaria a lui dicendo Il filmato della spallata non c'è semplicemente per una sola ragione, perché non è stato realizzato. Ciò non è che quello che voi fate nella casa a 24 ore su 24 venga sempre ripreso. E allora a quel punto non si è più contenuto. E non ce l'ha fatta. Mentre andava in onda la pubblicità, Spinalbese ha fermato prendendo di mira la produzione dicendo Devo stare in silenzio perché in questo momento qua io sono agitatissimo e potrei dire delle cose vere, sì, che penso, ma che possono essere giudicate in un altro modo. Edoardo ha detto delle cose molto pesanti. Ha fatto delle cose pesanti. E sì, lo so, non ci sono i video, quindi vabbè. Come ben voi sapete, non è possibile vedere ovunque. Tutte delle grandi strunzate, perché ci sono due telecamere. Sono delle strunzate. C'è una telecamera davanti alla porta. Sono bravo a censurare, eh? Infine ha giunto protestando ancora, dicendo Ma, 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 ma secondo te io non ho visto quella telecamera. E che mica so scimmo. Io lo so che sto andando contro la forbizia. Sto andando oltre. Lo so che dovrei stare zitto. E lo so, lo so, non c'è bisogno che me lo dici. Lo so già. E ora, signori, c'è grande curiosità per capire se Alfonso Signorini tornerà sulla questione dopo queste accuse di Antonino. Ma di questo, sicuramente, ne verremo a sapere. Per quanto mi riguarda è tutto. Un saluto grande da Max. Ci becchiamo alla prossima. Lasciate un bel pollicione in su.